Ho deciso di partecipare per l'idea di portare il pane in un evento così importante, così popolare, così dedicato ad un ingrediente come la birra, quindi un ingrediente fatto con materie prime semplici così come il pane. L'idea di far assaggiare il mio pane con le varie declinazioni salate in un evento dove c'è la birra che è protagonista, quindi pane e birra, pane e condimenti e birra secondo me è un abbinamento perfetto, quindi ho deciso di partecipare a questo motivo per far assaggiare sempre di più a tante persone tutto il lavoro che abbiamo fatto in quest'anni qui a Casa Donna e ora nel laboratorio pane. L'idea è quella di creare da una pagnotta di pane che nasce in un ristorante tre stelle, quindi un ristorante elitario per definizione, quindi non inclusivo, però questa pagnotta di pane diventa adesso una fabbrica di pane, una fabbrica di pane, quindi partendo da un pane di ricerca, l'idea è di creare una fabbrica di pane per portare questa eccellenza a un pubblico sempre più ampio. Quindi faccio pane e pomodoro, pane e baccalà, mantecato, pane e ragù. Quindi l'idea della scarpetta la ripropongo all'interno di questo evento. Cosa porterai a birra del Borgodei? Di pane? Porterò tre fette di pane buonissime.